Susan, vuoi prendere Jerry come tuo sposo? Mi dite che succede? Siamo un gruppo di amici che gioca sempre a Prendimi da 30 anni. Come? Per tutto il mese di maggio, ogni anno giochiamo a Prendimi. Prendimi! Su, le balle non dalle! Il nostro amico Jerry è il più bravo. E ora si vuole ritirare. Chi l'ha preso? Che presto. Quest'anno beccheremo Jerry. Che presto. Sincronizziamo gli orologi. Io non so come si fa. Io non porto l'orologio. Il tempo è una convenzione. Sembra che il gioco vi abbia fatto restare legati. Avanti, è da un po' che non lo facciamo. Può diventare un po' competitivo a volte. Caffè alla nocciola? Ma chi beve le nocciole? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!